Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Oggi faremo un po' di suoni ASMR Con la tastiera del PC Poi forse un pop-it e un fidget spinner Va bene, vedremo nel corso del video Iniziamo subito Iniziamo subito Iniziamo subito Alterniamo un po' di suoni Ora prendo un fidget spinner Questo qui viola che avete già visto Iniziamo subito Iniziamo subito Iniziamo subito Ora prendiamo un po' il nostro pop-it Eccolo qui E andiamo a fare dei suoni con il pop-it Giulio Iniziamo subito Iniziamo subito Iniziamo subito Con le unghie a me viene un po' difficile Iniziamo subito 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 riprendiamo con la nostra tastiera 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 rispondiamo con la nostra tastiera riprendiamo con la nostra tastiera Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, usiamo l'ultima volta il nostro pop it e poi ci salutiamo e andiamo a fare le ninne. Buonanotte, le ninne, le ninne. Buonanotte, le ninne. Buonanotte. 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 Buonanotte.